Best for Soil. Malattie trasmesse dal suolo. Informazioni pratiche. Ciao, sono Miguel e sono patologo vegetale, il che significa che studio le malattie delle piante. In questo video di Best for Soil si trovano spiegazioni su quali sono le malattie trasmesse dal suolo, come si riconoscono e perché sono importanti. Le malattie trasmesse dal suolo sono causate da organismi che vivono nel suolo e che infettano le radici, i rizomi o i colletti delle piante. Il suolo è abitato da una varietà di organismi viventi molto piccoli. La maggior parte di essi è coinvolta nella degradazione della sostanza organica, contribuendo alla trasformazione dei detriti organici in nutrienti minerali e sostanza organica, essenziali per nutrire le piante e mantenere la fertilità del suolo. Sebbene praticamente tutti questi organismi siano benefici per le piante, un piccolo numero di essi può disturbare le normali funzioni della pianta, causando in tal modo malattie alle piante. I microorganismi che causano queste malattie sono chiamati agenti patogeni vegetali del suolo e le malattie sono classificate come malattie trasmesse dal suolo, poiché gli organismi che causano tali malattie trascorrono tutto il loro ciclo di vita o parte di esso nel suolo. Esistono diversi sintomi generali tipicamente associati alle malattie trasmesse dal suolo. Molti dei sintomi si manifestano prima sulle radici o sulla base del fusto, in quanto si tratta degli organi vegetali direttamente a contatto con il suolo. I nematodi causano lesioni o deformazioni delle radici. I funghi causano necrosi, marciume dei tessuti o cancro. Alcuni agenti patogeni hanno un effetto diretto sulla qualità dell'organo vegetale raccolto, ad esempio nelle carote. In altri casi, i funghi colonizzano i vasi dell'oxilema dopo essere penetrati attraverso le radici, il che porta a una riduzione dell'assorbimento d'acqua e minerali. Di conseguenza, i sintomi di ingiallimento o appassimento si sviluppano in una fase successiva. Condizioni ambientali calde e secche accelerano lo sviluppo dei sintomi della malattia. I sintomi possono essere confusi con una mancanza di irrigazione. Pertanto, la diagnosi corretta è fondamentale per sapere se un agente patogeno è responsabile dei sintomi. La diagnosi consentirà una gestione efficiente del suolo in futuro. Un problema nel riconoscere le malattie trasmesse dal suolo è che nella fase iniziale dello sviluppo della malattia le parti fuoriterra della pianta, come le foglie o i fusti, non mostrano sintomi. È anche possibile che i sintomi fuoriterra non compaiano. Ciò può verificarsi quando il rischio della malattia non è abbastanza forte. Tuttavia, anche in assenza di sintomi chiaramente riconoscibili, lo sviluppo delle piante può essere ridotto, così come la resa. Contrariamente alle malattie trasmesse per via aerea in cui i sintomi sono chiaramente visibili e in cui la loro importanza è talvolta sopravvalutata, l'impatto delle malattie trasmesse dal suolo è spesso sottovalutato, poiché non mostrano sintomi chiari. Quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo di una malattia trasmessa dal suolo, l'intero raccolto può andare distrutto, il che è catastrofico per il produttore. Ad esempio, il verticillium dali è un fungo che penetra nelle radici e quindi invade i tessuti vascolari di piante sensibili, provoca avvizzimento e, in seguito, la morte dell'intera pianta. Altri agenti patogeni fungini, ad esempio collototricum cocodes, possono distruggere le radici delle piante infette, che non sono più in grado di assorbire acqua e sostanze nutritive. Di conseguenza, la crescita delle piante è ridotta e la resa sarà ridotta. Anche i nematodi parassiti delle piante possono causare perdite di resa e qualità. Alcuni nematodi sono specialisti di una singola famiglia di colture o piante, ad esempio i nematodi delle cisti di patate, che infettano solo la patata. Altre specie di nematodi sono polifaghe, il che significa che infettano una serie di colture. I nematodi delle galle della radice, specie meloidogene, appartengono a questo gruppo e causano problemi in un gran numero di colture in tutta l'Europa. Con l'eliminazione graduale del brumuro di metile, un potente fumigante chimico del suolo, funghi e nematodi trasmessi dal suolo hanno riacquistato importanza. A causa delle perdite causate da agenti patogeni trasmessi dal suolo, molta attenzione e sforzo sono posti sull'inattivazione e sull'eliminazione di quanti più agenti patogeni possibili nel terreno prima di piantare una nuova coltura. Per ottenere ciò, in passato sono stati applicati ai suoli fumiganti chimici molto tossici o vapore. Tuttavia, la disinfestazione del suolo con questi approcci è costosa e dannosa per tutti gli organismi viventi nel suolo, compresi i microorganismi benefici. Per decenni, l'agricoltura intensiva ha usato e abusato in modo improprio dei disinfettanti chimici per il suolo, riducendo così ogni tipo di vita nei suoli coltivati, con un grande impatto sulla fertilità naturale dei suoli. È possibile recuperare la vita e la salute dei suoli. Diverse pratiche possono contribuire al ripristino o al mantenimento del livello di fertilità e contribuire a evitare o ridurre la gravità dei danni causati da malattie trasmesse dal suolo. Alcune di queste pratiche sono promosse da Best for Soil, come il compost e gli ammendanti organici, le cover crops e i sovesci, la disinfestazione anaerobica del suolo e la biosolarizzazione, tutte pronte per l'applicazione e l'adozione.